I giovani Balilla erano un'organizzazione giovanile fascista creata durante il periodo del regime fascista in Italia. Essi costituivano una componente della gioventù italiana del Littorio, l'organizzazione giovanile fascista ufficiale. Il termine Balilla fu preso dal nome di un ragazzo genovese, Giovan Battista Perasso, soprannominato Balilla, che secondo la leggenda avrebbe dato inizio alla rivolta contro le truppe austriache nel 1746 durante la guerra di successione austriaca.